Quali fattori particolari sono ideati per dare alla donna il diritto di scegliere? Valutiamo ora, alla luce delle riflessioni del capitolo precedente, gli argomenti femministi più popolari a favore dell'aborto. 1. Il nostro corpo, la nostra scelta. Lo slogan suggerisce che il non nato A. è parte del corpo della madre, B. è collogato dentro il corpo della madre, C. non può esistere fuori dal corpo di un altro. 2. Il cosiddetto argomento della viabilità. A. Non è vera. Il non nato ha un corpo proprio, B. è vera, C. è vera a partire dai 6 mesi dopo il concepimento. 3. Possono B e C, nella misura in cui sono vere, giustificare l'aborto? 4. La collocazione del non nato dentro la madre e la dipendenza verso la madre giustificano la sua uccisione? Non se, come è stato argomentato nel capitolo precedente, il non nato è un essere umano, piuttosto che un parasseta nocivo, una persona con una dignità in se stesso, creato, immagine e somiglianza di Dio. Come illustrazione prendiamo un invalido dipendente da un'altra persona per la propria vita. La sua dipendenza chiaramente non giustifica la sua uccisione, ovunque egli possa essere collocato. 2. Una donna ha il diritto di scegliere. Quali fattori vengono intesi qua, oltre ai fattori A, C? D. Il sacrificio di sé della donna nel portare avanti la gravidanza in aggiunta al trauma se esso è il risultato di una violenza. E. Il trauma di dare il bambino in adozione. F. Il sacrificio implicato nel crescere un figlio, specialmente se il figlio è disabile. Questo trauma e il sacrificio di sé implicati in questi casi sono innegabili, ma devono essere visti nella luce della ricompensa del dare alla luce crescere un figlio, particolarmente un figlio disabile, se questo è intrapreso con amore. Ora, in linea con le considerazioni svolte nel capitolo precedente, qualsiasi sofferenza qui non ha chiaramente un peso maggiore della sofferenza che l'avorto comporta, sia alla madre sia alla sua progenie, ma in ogni caso non possono giustificare l'uccisione di un essere umano, innocente. In breve, il fatto che una persona causi una sofferenza in maniera non intenzionale non giustifica la sua uccisione. Come illustrazione, se una persona sta soffrendo nel curare un invalido, questo non giustifica l'uccisione dell'invalido. 3. La sofferenza futura del figlio nell'essere nato disabile o non voluto. Ora, i figli disabili soffrono forse più degli altri figli in generale, ma come dimostra l'esperienza, se essi sono accolti in una famiglia amorevole, possono vivere una vita realizzata. I figli non voluti possono essere adottati. Non è evidente che i figli adottati soffrano considerevolmente. In ogni caso, si dovrebbe dire ancora una volta che qualsiasi sofferenza che può essere sperimentata dal figlio, non può chiaramente avere un peso maggiore delle sofferenze implicate nell'aborto e non possono giustificare l'uccisione di un essere umano innocente. Con riguardo al secondo punto, la possibile sofferenza futura di una persona non giustifica l'uccisione di quella presente. Come illustrazione, immaginiamo un invalido che non è al momento sofferente. La possibilità che egli soffra nel futuro non giustifica ora la sua uccisione. 4. Non tornare all'aborto clandestino Questo slogan è ideato per giustificare l'aborto nella legge attuale, in quanto dovrebbe prevenire gli aborti clandestini. Lo slogan esprime la seguente posizione. L'aborto nella legge attuale, che implica una sofferenza relativamente piccola per la madre, essendo tipicamente non traumatico e igienico, è preferibile all'aborto clandestino che implica molta sofferenza alla madre, essendo tipicamente traumatico e non invariabilmente igienico. Questo argomento è anch'esso invalido, perché sebbene nella legge attuale le circostanze dell'operazione siano meno traumatiche, ci sono molte più donne e figli implicati, così che in effetti c'è molta più sofferenza e più uccisioni. Si potrebbe aggiungere qui che sembrerebbe che la quantità di donne che morirono dopo aborti clandestini è stata sovrastimata ed era in effetti già diminuita prima che passasse la legge attuale.